Ciao a tutti, oggi è il 14 febbraio San Valentino. Siamo qui al dehors del teatro comunale e stanno pulponendo tutti quelli di Amar Gabbietti. Dopo le nostre segnalazioni per una pulizia il comune si è interessato per fare la pulizia. Come vedete c'è ancora un personale che sta lavorando. Comunque finalmente possiamo trovare un luogo che si pulisce. Io vi saluto, vi auguro una buona mattina, sperando che questo luogo rimanga pulito. Va bene, ok. C'è qui l'assessore Ciccaglione. Buongiorno, andiamo, va bene? Mi fa piacere che c'è l'assessore Ciccaglione che si sta interessando, diciamo appunto, per la pulizia. Va bene, va bene, va bene. Come dovevamo fare l'abbiamo fatto poi. Andrebbe che si smantellasse anche questa struttura. Quella lì? Sì, questa. No, 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 questo va bene. Lo scopo era quello di non consentire il pivacco in condizioni di estremo disagio. Perché hai visto come era acconciato prima? No, non lo dici a me. Eh? Io un giorno sì, è uno no, venivo qui a vedere, fin tanto che poi, come dire, giustamente si è deciso finalmente di fare quello che per me dovrebbe essere fatto già da tempo immemora. Però comunque, questo è solo l'inizio. Stamattina abbiamo fatto un'altra riunione per cominciare ad attenzionare altri punti importanti della città. Comunque questi qua sono tutti soldi spesi e buttati via. Perché se devi passare a pulire e controllare ogni volta sono soldi spesi, eh? Certo. Adesso diciamo che di fatto abbiamo tolto il problema. È chiaro che queste persone si spostano. Non è che abbiamo risolto... Puliscono qui e spostano dall'altra parte. È dall'altra parte. Però diciamo che nell'ambito... Scusate un attimo. Pronti? Va bene. Lasciamo l'assessore Ciccaglione al suo lavoro e ci sentiamo un altro giorno. Sì, benissimo. Ciao a tutti. Grazie, gentilissima.